Mi chiediamo solamente di restare nelle tolle di sicurezza perché lo show non è finito! Tutto pubblico può entrare però rigorosamente dietro ai New Jersey Quindi tutti oltre il New Jersey! Solo il personale dello staff! E mentre il pubblico entra! Convincili ad avvicinarsi! Abbiamo bisogno di Magnetti! Marco Magnetti è vicino! E' scappato! E' danno! Unissimo Cordova! Uno dei trick migliori! Che riesce a realizzare! E riporta subito il danno! Con un bellissimo Superman! Guardando il suo pubblico! E' la Superman Halo Clock! E guardate intanto! Direi di tenere a boschi questo ragazzo perché! Davide è il tuo c***o! E' nel protempo! Questi due passi! Ci diventano così! Nei loro poveri c***o! Non ci siamo! Guardate! E' dal pubblico! Alla serie! Dalla! Guardate! Supermalla! Ora ancora! Supermalla! Supermalla! E' dal pubblico! E' dal pubblico!